Musica Al via nelle prossime ore la bonifica anche dall'amianto della zona dello stazione dove si trovava il ristorante al porticello. Gli operai lavoreranno nelle ore notturne, sarà il comune ad anticipare la somma necessaria. Gli emendamenti al bilancio, una prova muscolare dell'opposizione, lo dice Fabio Leonte che ribadisce, mi dimetterò se non riusciremo a costruire i loculi cimiteriali perché si tratta di un'emergenza cittadina. E degli emendamenti al bilancio abbiamo parlato anche con Filippo Bellanca che è stato uno degli ispiratori, presidente della commissione bilancio che poi dice crisi idrica grave per Sciacca termine punti a guidare l'ATI. Fa discutere lo stop alla sagra del mare, festa di San Pietro. Domani il commentato organizzatore chiarirà le ragioni delle mancate autorizzazioni ma il Luna Park intanto è salvo essendo stato ubicato su un'area privata. Randagismo, troppi branchi a Sciacca che proliferano perché c'è chi porta da mangiare i cani, il dirigente comunale Misuraca dice spesa destinata ad aumentare, rimane sullo sfondo il problema del senso civico in città. Via libera all'Ars la manovra economica da 200 milioni di euro, obiettivo per così dire privilegiato il settore agricolo e zootecnico falcidiato dall'emergenza siccità per l'opposizione manovra insufficiente. Un caro saluto e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il Tg di RMK. Costeranno circa 65 mila euro i lavori di rimozione dei detriti e di bonifica nell'area in cui prima sorgeva Sciacca il ristorante al Porticello, distrutto qualche giorno fa da un terribile incendio. L'intervento dovrebbe cominciare nelle prossime ore. La ditta specializzata lavorerà in particolar modo nelle ore notturne a causa del caldo estivo. Avanti intanto la colletta solidale è spontanea da parte della comunità per sostenere la famiglia Marino e aiutarla a ripartire dopo la distruzione del proprio locale di ristorazione. Vediamo il servizio. Costerà almeno 65 mila euro al comune di Sciacca la rimozione dei detriti e la bonifica dell'area del borgo dello stazione dove fino a qualche giorno fa sorgeva il ristorante al Porticello, andato completamente distrutto a causa di un terribile incendio. L'ente locale anticiperà le somme, data l'urgenza della situazione, per poi rivalersi su terzi. La bonifica costerà circa 60 mila euro, mentre l'incapsolamento del lamianto, già eseguito la settimana scorsa, è costato 5 mila euro. L'intervento, salvo imprevisti, dovrebbe cominciare già nelle prossime ore. Si attendono gli ultimi documenti e autorizzazioni da parte dell'Aspi di Agrigento e del Demanio Marittimo, che dovranno validare il piano di bonifica predisposto e presentato dal comune. Subito dopo inizieranno i lavori di smaltimento, che dovrebbero andare avanti e durare circa una settimana. La ditta specializzata, incaricata dal comune, lavorerà soprattutto durante le ore notturne, sia per evitare l'afoso caldo estivo, sia perché gli addetti, per motivi di sicurezza, dovranno operare indossando specifiche tute e caschi. Tutti i detriti saranno caricati su mezzi idonei e trasferiti sigillati prima nel Palermitano e poi in Trentino, in un'apposita discarica d'amianto. In attesa che giungano i risultati delle analisi dell'ARPA sulla qualità dell'aria, campioni che erano stati prelevati nelle ore immediatamente successive ai fatti, vanno avanti le iniziative solidali per sostenere la famiglia Marino, che per una vita ha gestito la storica attività di ristorazione e per aiutarla a ripartire. È possibile fare una donazione tramite IBAN sul conto corrente bancario della moglie del titolare Ignazio Marino, oppure attraverso la piattaforma GoFoundMe, dove ad oggi risultano donati poco più di 2.200 euro. Gli emendamenti al bilancio, l'opposizione ha voluto mostrare i muscoli. Così l'assessore Fabio Leonte commenta quanto è successo martedì sera in aula a consigliare, ammettendo anche il voto favorevole della maggioranza scaturito da una disciplina di gruppo. L'assessore al bilancio torna ad evidenziare che quella dei loculi cimiteriali è un'emergenza per la città. Per questo ribadisce, ho detto che se non riuscirò a realizzarli, mi dimetterò. Sentiamo le sue dichiarazioni. Con il bilancio approvato possono partire tutta una serie di servizi e di opere importanti in città. Così l'assessore Fabio Leonte che parla di approvazione avvenuta in tempi ragionevoli. Sugli emendamenti, l'assessore al bilancio parla di opposizione che ha voluto mostrare i muscoli, pur ammettendo che il voto favorevole della coalizione che sostiene l'aggiunta termine è scaturito dalla necessaria disciplina di gruppo, legata indubbiamente alla posizione assunta dal PD con in testa il consigliere Ambrogio. Il bilancio sostanzialmente è quello dell'amministrazione. Gli interventi emendativi hanno riguardato prevalentemente quella entrata straordinaria di oneri concessori che riguarda 1 milione e 300 mila euro per intenderci. Noi avevamo proposto degli interventi che adesso non si potranno fare più perché è intervenuto l'emendamento da parte della maggioranza numerica che ha mostrato i muscoli anche perché qualche problema interno ce l'aveva, dimostrato dal fatto che quattro consiglieri, quelli del gruppo misto, non hanno votato l'emendamento. Il nostro emendamento prevedeva ad esempio la possibilità di utilizzare 500 mila euro per la manutenzione di strade. Questo non potrà avvenire più perché di questi 500, 300 sono stati tolti, quindi avremo a disposizione 200 mila euro dei 500. Non potremo ad esempio intervenire per la riqualificazione della scala di via Ortis in Salvatore perché anche lì c'è stata una riduzione delle somme che non consentirà più di intervenire. Così come per la scala di via Pietrecadute, per intenderci quella sotto il campanile di San Michele, anche lì c'è stata una riduzione delle somme e non potremo verosimilmente più intervenire. L'opposizione, la maggioranza consigliare in questo caso, almeno numerica, ha proposto altre cose, alcune delle quali le avremmo anche potute votare tranquillamente se l'emendamento non fosse stato unico. Il fatto che l'emendamento fosse stato, era unico e che quindi noi abbiamo visto venire meno quelle che erano la caratteristica più importante della nostra distribuzione, che era quello di fare strade. Abbiamo a disposizione 500 mila euro dell'anno scorso e 500 mila euro di quest'anno avevamo a disposizione un milione. Quindi non ci ha consentito di dare un'idea positiva rispetto all'emendamento, anche se poi l'abbiamo votato positivamente proprio per le ragioni che diceva lei, che per una questione di disciplina di gruppo abbiamo deciso di votarlo favorevolmente. Però per quanto mi riguarda, l'ho detto anche in Consiglio Comunale, la nostra distribuzione, a mio modo di vedere, era migliore di quella proposta con l'emendamento da parte dell'opposizione. L'assessore al bilancio torna poi a ribadire l'impegno a realizzare nuovi loculi cimiteriali. Adesso non ci sono alibi né per me né per il dirigente responsabile, dice. Per questo ho detto che mi dimetterò se non sarà raggiunto questo obiettivo. Io ho ritenuto, anche a scanso di equivoci e per far stare tranquilli tutti coloro che propongono progetti financing, ho ritenuto di dire A, che non ci saranno progetti financing, B, che io andrò avanti, spedito su questa che ritengo una priorità della costruzione dei loculi, nell'eventualità non riuscissi mi dimetterò da assessore. Questi loculi entro quanto tempo è presumibile che possano essere realizzati? Ciò che dipendono purtroppo sono anche nei tempi tecnici che vanno valutati, però l'importante che già la predisposizione del bando e l'affidamento dell'incarica a un progettista già vuol dire che il procedimento è avviato. Né la politica né il dirigente abbiamo più alibi perché il bilancio approvato a giugno ci consente di andare avanti. Quella del cimitero conclude Leonte un'emergenza e come tale va affrontata. Noi avremo a brevissimo la possibilità di costruirne 54 loculi e quindi dovremmo azzerare la situazione, termorestando che poi probabilmente la situazione, considerato i tempi che ci vogliono per costruire 2.000 loculi, probabilmente magari ritornerà a essere non bella, diciamo, non idonea alla situazione igienico-sanitaria utile che ci vuole perché si possa dire che un cimitero funzioni. Noi ce la metteremo tutta perché la situazione si sistemi. È una situazione incresciosa che non può rimanere così. Per questo dico che la costruzione dei loculi è una priorità assoluta. Sciacca è il secondo comune della provincia. La crisi idrica ci sta penalizzando oltre misura. Di fronte a questa situazione il sindaco Termine dovrebbe candidarsi alla presidenza dell'ATI. E questa è l'opinione di Filippo Bellanca, presidente della Commissione Consigliare Bilancio e Finanze, che fa anche il punto degli emendamenti promossi dall'opposizione e approvati con il bilancio di previsione. C'è il servizio. Mi auguro che sul nuovo vertice ATI che si dovrà costituire noi possiamo avere una parte importante di questo vertice perché è l'ATI che poi dovrà gestire tutto questo. Il sindaco dovrebbe candidarsi alla presidenza? Mi dicono che giorni fa ha detto che non è interessato alla presidenza. Sbagliando, è sbagliato questo. La crisi idrica è sempre più grave. Fabio Termine dovrebbe candidarsi alla presidenza dell'ATI. Filippo Bellanca non usa certo mezza parola per dire quello che pensa. Il sindaco di Sciacca deve avere il ruolo di peso più importante che ci sia, insieme ad un'assemblea territoriale idrica dove, suo giudizio evidentemente, il secondo comune della provincia deve contare di più rispetto ad oggi. Abbiamo avuto il sindaco precedente che faceva parte dell'ATI, era presidente dell'ATI e alcune cose si sono viste di differenza. Io penso che il sindaco deve accettare un'operazione di questo tipo. è una sfida difficile, capisco, importante, ma deve accettare in un momento così delicato. Il presidente della commissione consigliare bilancio a proposito di AICA, di cui Sciacca, che peraltro possiede diverse sorgenti che l'hanno rese al serbatoio della provincia, ha una quota non indifferente, dice che la società sta andando male, con una funzione economicamente sempre meno sostenibile in futuro. È opportuno che l'amministrazione di Sciacca, che non è l'ultima amministrazione facente parte di AICA e di Ati, inizia a pensare a una forma alternativa, perché non ritengo che AICA possa avere una lunga vita, per com'è la situazione. Una società che parte da uno giurtile, che parte con un capitale di 20 mila Euro e che vive solo ovviamente delle entrate dell'utenza, non può avere grande prospettiva. Ricordo che abbiamo inserito un emendamento tecnico fatto dall'ufficio per circa 500 mila Euro di perdite 2021-2022. Il 2023 ci è stato detto che non hanno perdite, ma forse siamo a pareggio o un utile minimo. Il 2024, con tutto quello che sta succedendo e che abbiamo visto su Agrigente e sul nostro territorio, non credo che potrà chiudere inutile. Quindi dovremmo andare a ricompensare nuovamente questa perdita ulteriore. Significa che noi paghiamo l'acqua più di tutti in assoluto. In più ci aggiungiamo che ridistribuiamo sui cittadini la perdita che la società ha, perché queste somme della perdita che andiamo a mettere sono ovviamente soldi del Comune di Sciacca, non è una cosa che può reggere. Quindi o iniziano a pensare a una trasformazione in S.P.A. o a pensare a un'alternativa, ma qualcosa va pensato. Con Bellanca abbiamo poi fatto il punto sugli ultimi lavori consigliari. È stato lui uno degli ispiratori degli emendamenti dell'opposizione sottoscritti in totale da 9 consiglieri approvati nell'ambito del piano triennale, dalle opere pubbliche, del DUP e del bilancio. Questo maxi emendamento è stato un po' criticato. C'era una somma di 500 mila Euro per la viabilità, diciamo le strade. Da lì sono stati tolti 300 mila Euro per distribuire sempre per viabilità, perché quando parliamo di località Foggia, dello Stazzone, di San Michele, della via Orcia e Salvatore, della Marina, parliamo sempre di viabilità, quindi non è che sono stati tolti per metterli in feste o sagre. Comunque l'amministrazione oggi ha 700 mila Euro per la viabilità, di cui 500 dello scorso anno del mutuo che ci dicono partiranno entro luglio, più 200 che sono rimasti lì. Ma questo non significa che noi da qua a qualche mese non possiamo mettere delle somme. Uno, perché potrebbe succedere che si hanno comunicato che ci potrebbero essere allentrate straordinarie ulteriori su oneri di urbanizzazione. Due, che si potrebbe accendere un mutuo alla prima operazione di bilancio e mettere altre somme tranquillamente per fare anche le strade rurali. Nega Bellanca che col mancato sostegno sul maxi emendamento dei quattro voti dei rappresentanti del gruppo misto si sia generata una frattura insieme ai gruppi che politicamente osteggiano l'amministrazione termine. Questa cosa si è inserita in alcuni rumors di questa settimana secondo cui ci sarebbero stati dei possibili movimenti anche per esempio con i consiglieri di Forza Italia che poi sono rientrati. È successo davvero tutto questo? No, 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 assolutamente. Penso che ci sono state delle valutazioni legate anche appunto a questi emendamenti che c'erano, ma non c'era nessun fatto politico eclatante che potesse arrivare a questo punto. Non credo minimamente che il gruppo di Forza Italia possa fare un ragionamento ovviamente di prospettiva o di futuro politico in quella coalizione. Bellanca infine sollecita l'amministrazione sulla questione del piano aro che è scaduto tuttora in proroga. Abbiamo toccato il tasto del piano aro appunto perché ancora non abbiamo notizie, ci dicono che a breve ce lo porteranno in consiglio comunale, ma non abbiamo ancora ad oggi nessuna notizia né della Gara Ponte né niente, né anche di quella definitiva. Ci siamo in proroga adesso. E potrete seguire le interviste integrali all'assessore al bilancio Fabio Leonti e al presidente della commissione consigliare bilancio Filippo Bellanca nello speciale RMK Notizie che andrà in onda oggi in coda ITG. Furto in una tabaccheria di Menfi esita in zona Portopalo. Tre malviventi che sarebbero entrati in azione. Il bottino ammonta circa 1.000 euro tra denaro e sigarette, ma le telecamere di videosorveglianza avrebbero ripreso tutte le fasi dell'azione criminale oltre ai volti dei balordi. Il titolare ha sporto subito denuncia ai carabinieri. Si tratta del tabacchino Scirica che dopo una lunga fase di chiusura a causa della frana che anni fa ha colpito un area di Portopalo, adesso è stato allocato all'interno di un container. I carabinieri della compagnia di Trapani hanno arrestato un 22enne per il reato di resistenza pubblico ufficiale. Nel corso di un servizio per l'ustrativo notturno i militari dell'arma hanno incrociato l'auto del 22enne che priva della targa anteriore procedeva a velocità elevata. Il giovane alla vista dei carabinieri è accelerato cercando di far perdere le proprie tracce attuando manovre pericolose per sé e per gli altri utenti della strada, ma dopo un inseguimento è stato raggiunto e tratto in arresto. A seguito dell'udienza l'arresto è stato convalidato. Il titolare di uno stabilimento balneare di Siculiana, un 53enne del luogo, è stato denunciato alle forze dell'ordine che gli hanno combinato pure una sanzione amministrativa di 5.000 euro. Sono diverse le criticità riscontrate, il chiosco avrebbe avuto un sistema di videosorveglianza non autorizzato, mentre sarebbero mancate anche la sorveglianza sanitaria e la formazione del personale. Ancora una truffa l'ennesima ai danni di anziani in provincia di Agrigento, questa volta ad essere presa di mira una donna di Santa Elisabetta. Il copione con qualche variante è sempre lo stesso. All'ottantenne è stato raccontato che la nipote che vive in Veneto era finita nei guai a causa di un incidente e che servivano con urgenza dei soldi per toglierla dai guai con la controparte. L'anziana ha consegnato contanti, gioielli e carta di credito che il balordo ha utilizzato per prelevare. Le forze dell'ordine stanno verificando i video delle telecamere di videosorveglianza per risalire al criminale. E a Canicattì un'altra anziana è stata scippata. La donna, una 83enne, stava percorrendo una strada del centro storico quando è stata avvicinata da un balordo che l'ha strattonata e poi l'ha strappato la collana che indossava. Tutto è avvenuto in pochi minuti. La donna ha riportato lievi ferite oltre allo shock, mentre il malvivente si è allontanato a piedi. Il bottino ammonterebbe a circa 1000 euro. Noi ci fermiamo per una pausa, ma vi aspettiamo per tutte le altre notizie. A dopo. Le attività del Luna Park, giunte a Sciacca in occasione della festa di San Pietro, potranno svolgere ugualmente il proprio lavoro dopo essersi collocate all'interno di un'area privata. Per chi vorrà dunque, il divertimento sarà ugualmente garantito. Domani conferenza stampa del comitato organizzatore per illustrare ciò che resta del programma della festa e per chiarire tutti gli aspetti di una vicenda che ha portato all'annullamento delle iniziative ludiche, culinare e gli spettacoli della Sagra del Mare. Vediamo. Le attività ludiche del Luna Park, inizialmente previste in occasione della Sagra del Mare festa di San Pietro, sono salve. In assenza delle autorizzazioni necessarie rilasciate dai funzionali del demanio marittimo di Agrigento, i titolari delle varie giostre si sono piazzati all'interno di un'area privata e dunque per chi vorrà ci sarà spazio per il divertimento e per l'utilizzo dei caratteristici giochi. Del resto i mezzi, provenienti da tutta la Sicilia, erano giunti a Sciacca già nei giorni scorsi, ben prima di scoprire che, un po' a sorpresa, mancava il via libera del demanio. Luna Park garantito quindi, mentre il comitato organizzatore della Sagra del Mare ha indetto per domani mattina alle ore 10.30 una conferenza stampa per chiarire tutti gli aspetti della vicenda e illustrare ciò che resta del programma 2024. La conferenza stampa si terrà presso l'oratorio della Chiesa di San Pietro e vi prenderanno parte i referenti del comitato, la Proloco Sciaccaterme e le tre cooperative sita in zona marina fra i pescatori, Madonna del Soccorso e San Paolo Consulting. Garantito ovviamente tutti i momenti religiosi coordinati dal parroco Don Antonino Catanzaro con la processione del simulacro di San Pietro, benedicente del mare, dei pescatori e delle attività di pesca, processione che si terrà sabato sera. C'è attesa infine per capire se, anche all'ultimo momento, si potrà organizzare quantomeno la tradizionale intinnammare per la quale, anche in questo caso, si attende, si spera entro oggi, l'eventuale lascia passare da parte del rigoroso demanio marittimo. Quella del randagismo a Sciacca è un'emergenza che purtroppo rischia di aggravarsi ulteriormente, ad ammetterlo il dirigente del comune di Sciacca Aldo Misuraca durante l'ultima seduta consigliare. Il costo che al momento il comune sostiene di circa 300 mila euro potrebbe subire un ulteriore aumento. Ce ne occupiamo in questo servizio. I costi che al momento il comune di Sciacca sostiene per fronteggiare il fenomeno del randagismo montano a circa 300 mila euro l'anno. Soldi che rischiano di non bastare più. Il dirigente comunale responsabile Aldo Misuraca ha già informato di questo stato di cose. I consiglieri comunali durante l'ultima seduta ad alimentare i branchi sono coloro che danno da mangiare ai cani. La conseguenza è la loro proliferazione. Ci sono soggetti particolarmente critici che in zone prestabilite del territorio, ma sempre le stesse zone che ormai conosciamo, alimentano decine e decine e decine, non dieci, ma parliamo di 30-40 per ogni zona. 40 animali fra due mesi diventano 400. È impossibile andare appreso perché noi riceviamo telefonate la domenica, la domenica sera, il sabato, sempre per qualche cane da prelevare, qualche cucciolo. Tra l'altro non abbiamo più posti nei rifugi sanitari. Il comune fa quel che può. Al momento è convenzionato con due strutture che ospitano in totale 220 cani e la situazione di difficoltà non riguarda certo soltanto Sciacca. Tra l'altro l'anno scorso, prima di fare l'affidamento, ho contattato tutti i canini del territorio della Sicilia, anche della Calabria. Tutti ci hanno detto tutto pieno. Quindi il problema ce l'hanno tanti comuni. Sì, tutti comuni. Con questa normativa e con questi soggetti che alimentano in maniera indisciplinata e quindi causano un proliferarsi incredibile, che è impossibile da gestire a punto di vista della sicurezza, perché nessuno può garantire il branco, causano un problema di sicurezza e causano sicuramente un aumento di coste, a mio parere, che per ora da 300, 360, 370 mila euro all'anno, potrebbero aumentare in maniera esponenziale. Cosa dico io? Bisogna intervenire nei limiti della legge e secondo la correttezza delle norme della legge. Sui soggetti, sulla causa, noi ci siamo concentrati invece sull'effetto. Non dobbiamo pensare al cane, dobbiamo pensare a questi soggetti che vanno regolamentati. Quindi vuoi alimentare il cane? Attenzione, hai queste regole, te lo adotti oppure noi ti diamo uno spazio, potrebbe essere anche comunale, non lo escludo, sempre che ci siamo. Ma bisogna creare una struttura nuova come un rifugio per il quale l'architetto Aldo Misuraca ha redatto un progetto da 7 milioni di euro. L'Oasi è una nuova concezione, non è il carcere per l'animale, che è il canile, c'è pure il canile per quelli pericolosi che va tenuto, un po' come gli uomini, la gente pericolosa va tenuta in gabbia, c'è poco da fare. È un progetto oserei dire molto ampio, 7 milioni di euro ci vorrebbero, ma io non dico di realizzare tuttora, io dico abbiamo 500 mila euro di finanziamento, iniziamo un primo anno. C'è nel piano triennale questo progetto? Sì, ci è inserito. E quindi evidentemente si potrebbe anche tentare di… Non è messo al primo anno perché non sappiamo il finanziamento. Devo dire che con l'amministrazione, con il sindaco Fabio Termini e con l'assessore Agnese Sinagra si sta lavorando assieme, anche con l'interlocuzione, con l'assessorato, per capire se ci sono quel minimo di somme e per poter cominciare perlomeno con una prima fase e quindi realizzarlo all'occhio. Quindi è fattibilissimo. Senta, mi ha incuriosito quando lei dice citiamolo di notte per… In ogni momento, in ogni momento è un problema. E cosa si fa in questi casi? C'è un cucciolo là… Il comune a Calappiacani? Quando è un'operazione semplice gli a Calappiacani lo fanno. Quando sono operazioni complicate, complesse anche per l'aggressività, noi chiediamo aiuto ai… titolari dei rifugi sanitari. Per poter prelevare questi animali non si può adottare la Calappiacani perché già scappano appena rivedono. Telenarcosi, il dottore Costa dell'ASP che è in maniera disponibile, però anche quello è un servizio che va pagato. Quindi non abbiamo solo il costo dei rifugi sanitari, abbiamo tutti questi costi satelliti di emergenza continua. Stagione balneare. Con l'approvazione del bilancio possono partire i servizi. La prossima settimana saranno collocate le passerelle per disabili. Si attende anche la giudicazione del servizio di vigilanza e assistenza nelle spiagge. Sentiamo. Con l'approvazione del bilancio possono adesso partire tutta una serie di servizi, a cominciare da quelli tipicamente estivi. Il comune di Sciacca sta predisponendo l'acquisto di passerelle per disabili che verranno collocate nelle spiagge. In totale saranno acquistati 140 metri di passerelle di plastica riutilizzabili che permetteranno di rendere diverse spiagge veramente accessibili. L'acquisto di queste passerelle, dichiara l'assessore alla disabilità Francesco Di Mino, è un passo significativo verso l'accessibilità delle nostre spiagge. È giusto sottolineare, aggiunge che questo è un atto non eccezionale, ma un modo per rendere normale la città, garantendo a tutti i cittadini senza distinzione di poter effruire delle coste. Le passerelle verranno montate la prossima settimana nelle località di Contrada, Foggia, Sovareto, Renella e Tonnara, rendendo così queste spiagge fruibili anche alle persone con disabilità. Era un punto fermo del nostro programma, conclude l'assessore Di Mino, evidenziando come la collocazione delle passerelle in spiaggia sia stata sollecitata dalla consigliera Daniela Campione, coordinata con l'assessore alle politiche sociali, Agnese Sinagra. L'impegno dell'amministrazione comunale per l'inclusione e l'accessibilità proseguirà, concluso l'assessore, e quello nelle spiagge è solo il primo di una serie di azioni che mirano ad abbattere le barriere architettoniche e puntano a migliorare la vivibilità della città. Con l'approvazione del bilancio si corre anche per far partire l'importante servizio di vigilanza e assistenza nelle spiagge libere. Sono stati previsti circa 100 mila euro, ma quasi certamente si andrà ad un risparmio e peraltro c'è la possibilità di ottenere un contributo dalla regione siciliana che nei mesi scorsi ha stanziato un milione di euro per l'espletamento del servizio nei comuni costieri. Il comune di Sciacca ha presentato entro al 15 giugno scorso la documentazione necessaria. Si deve adesso espletare la procedura di aggiudicazione del servizio e in tempi brevissimi, considerato che siamo già a fine giugno. Sono previste postazioni in quattro spiagge libere del litorale Saccenza, a suo tempo stabilite nel corso della conferenza dei servizi. Si tratta delle località Foggia, San Giorgio, Timpi, Russi e Maragani, le stesse dello scorso anno, per complessive 4 postazioni di salvataggio fisse, 7 giorni su 7, dislocate nelle zone di maggiore affluenza per almeno 60 giorni consecutivi, con due assistenti bagnanti per postazione. Un servizio obbligatorio per i comuni costieri previsto dalla legge regionale 17 del 1998. Si è insediato ieri sera il nuovo Consiglio Comunale di Caltabellotta. Presidente è stato eletto Rino Granillo, bancario, che è stato il più votato al Consiglio Comunale con 315 voti e che già nella consigliatura precedente aveva ricoperto il medesimo ruolo. Granillo fa parte della lista di maggioranza che ha eletto Biagio Marciante, sindaco di Caltabellotta. La vicepresidenza invece è stata eletta Iolanda Modica, consigliere di opposizione, che ha avuto un'ottima performance elettorale, raggiungendo le 200 preferenze, scelta che sembra ospicare una buona futura collaborazione tra maggioranza e opposizione. Il sindaco Biagio Marciante nei prossimi giorni completerà la giunta nominando gli ultimi due assessori. E torniamo anche oggi a parlare della crisi idrica, gravi difficoltà ad agrigento, dove ogni mattina diversi cittadini fanno la fila per poter riempire i bidoni nella fontana di Bonamorone. E' andato per noi a realizzare un servizio Davide Sarto. Ha riempito l'acqua. E per oggi l'ho riempito, domani sarà un altro giorno. E si ricomincia? E si ricomincia le norme. Un'altra settimana è purtroppo un'interessata a terzo mondo per la Sicilia, costretta in ginocchio dalla crisi idrica provocata dalla siccità e dalla incapacità di utilizzare le centinaia e centinaia di milioni di euro che sono stati stanziati nel corso del tempo per fronteggiare la tavica sete siciliana. Invece ci si è ridotti alle autobotti, alle motoape, alle manichette. I cittadini sono indignati, avviliti, così come le forze sindacali e produttive. Non venivo qua da 20-22 anni e ti devo dire che è arrivato a questo punto, che dopo 22 anni la situazione adesso è veramente pesante. Siamo senza acqua e per necessità siamo qua a fare la fila. Stamattina già c'erano qualche 10 persone, ho aspettato il mio turno, c'è pure chi abita vicino a casa mia, che ha problemi con i bambini, con qualche persona anziana e sono io pure a riempirci i bidoni, quindi faccio sia il mio che anche quello degli altri. C'ho 86 anni e bevi l'acqua a Bonamorone, ancora. L'acqua viene ogni secondo anno, noi dobbiamo pregare Dio che fa piovere e le diche sono asciutte, tutte le cose sono asciutte e purtroppo è quello che piangiamo siamo noi. Le reti idriche sono bucherellate ovunque, il disastro investe in ogni parte della Sicilia, ad Agrigento ci si reca alla fontana di Bonamorone come se fosse un pellegrinaggio. Cioè chi ha famiglia, io sono solo e mi manca l'acqua per esempio, ma chi ha famiglia con vigli come fa? Cioè bisogna che la regione a più presto deve fare qualcosa, a fare un distillatore, ci sono distillatori di ultima generazione addirittura con acqua pure depurata, come fanno a Dubai, a Dubai nel deserto ma hanno sempre acqua, cioè qua se andiamo a vedere a due chilometri siamo al mare, cioè tutta questa sofferenza per questa città da una vita per quale motivo. Approvata dall'Ars la manovra da 200 milioni di euro. Il presidente Schifani e la maggioranza parlano di risposte date ai comparti più in crisi, a cominciare dall'agricoltura per la questione siccità. Per il PD è una manovra insufficiente. Sentiamo. Con la manovra approvata dall'Ars rispettiamo gli impegni presi con i siciliani su più fronti. Un pacchetto di interventi limitati ma strutturali che vanno dalle misure rivolte alle piccole e medie imprese per ridurre i tassi di interesse più alti rispetto a quelli di altre regioni. Ai contributi ai comuni per i maggiori oneri sostenuti per il trasferimento dei rifiuti all'estero al rafforzamento degli interventi per l'emergenza idrica e agricola. E' quanto dichiarato il presidente della regione Renato Schifani commentando l'approvazione all'Ars della variazione di bilancio, una manovra da 200 milioni di euro. Tra i punti che vengono ritenuti qualificanti dal governo regionale c'è lo stanziamento di 50 milioni ai comuni per la compensazione degli extracosti dei rifiuti, un aiuto fondamentale per i sindaci nel contenimento degli aumenti dell'Atari, ma anche i 50 milioni che vengono devoluti alle imprese istituendo una misura analoga al bonus caro mutui per le famiglie e gli aiuti al comparto agricolo piegato dalla siccità che inverse la Sicilia. Ancora una volta abbiamo dimostrato serietà nei confronti dei siciliani, compattezza e lealtà al governo Schifani, dichiarata parte sua il capogruppo della DC Carmelo Pace che evidenzia in particolare lo stanziamento di 15 milioni di euro in interventi per la realizzazione di vasche d'accumulo, pozzi trivellati, realizzazione di impianti irrigui e l'acquisto di pompe sommersi per fronteggiare la siccità e 2 milioni e mezzo per l'abbattimento degli interessi per le aziende agricole, oltre alla sospensione dei canoni di irrigazione ai consorsi di bonifica. Dall'opposizione la bocciatura è netta, neanche un 18 politico commenta il capogruppo del PD Michele Catanzaro che parla di manovra insufficiente, che non risponde minimamente alle esigenze della Sicilia, con una maggioranza impegnata a discutere di rimpasto e un presidente della regione che preferisce una conferenza stampa al confronto con il Parlamento. Il PD ha mostrato ancora una volta grande senso di responsabilità, ha continuato Michele Catanzaro, cercando con un'opposizione costruttiva di migliorare le norme contenute nel testo, ma in un momento in cui le emergenze, dalla siccità ai problemi idrici, ai trasporti rischiano di affossare le nostre imprese, ci saremmo aspettati di più, a partire dalle risorse comuni che restano inadeguate. Il fenomeno migratorio richiede letture più attente e articolate, che magari possono aiutarci a comprendere che forse non è un problema, ma un'opportunità, una risorsa per la nostra società moderna. Se ne parlerà domani, 28 giugno, in occasione del nuovo appuntamento con San Marco Restart, dialoghi contemporanei, in programma alle 18.30 presso l'area esterna della struttura Bono Vacanze a Capo San Marco. Un incontro che fa seguito al recente workshop Integrazione e Inclusione, comprendere e affrontare la migrazione in Sicilia, svolto sia sciacca su iniziativa del Sacenze e Alessandro Indelicato, del gruppo di lavoro numero 5 del progetto CoreNet dell'Unione Europea. L'iniziativa curata da Giuseppe Recca vuole ulteriormente accendere l'attenzione sulla realtà migratoria che la Sicilia e l'Italia stanno affrontando, esaminando gli aspetti sociali e i numeri, con l'obiettivo di favorire il dialogo per trovare soluzioni comuni, senza steccati politici e ideologici. Si svolgerà sabato 6 luglio alle 10.30 nei locali del convitto dell'Istituto Amato Vetrano, in località Tonnara, la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo teatrale Amato Vetrano, visionario gentiluomo di Salvatore Monte. La rappresentazione teatrale avrà luogo a Sciacca dal 25 al 28 luglio prossimo, in Contrada Marchesa, dove sorgeva l'antico Istituto Agrario. Spazio adesso alla rubrica Il Libro del Giorno. Costa Azzurra, primavera 2023. A largo di Cannes, uno yacht è ancorato sulle acque calme di un'insenatura. A bordo riposa Oriana Di Pietro, editrice ed erede di una famosa famiglia milanese. Sotto il sole, in quell'angolo di Paradiso, viene aggredita selvaggiamente da un uomo e muore dopo dieci giorni di coma. Suo marito Adrien, un pianista jazz di fama mondiale, è il primo sospettato, ma durante l'interrogatorio appare sfuggente. Ma ha davvero ucciso lui Oriana? Sul caso che eccita morbosamente l'opinione pubblica, indaga l'ispettrice Justine Tegliera, una poliziotta eccezionale, che sta però attraversando un periodo difficile. Il duello con il sospettato diventa così, per lei, la partita della vita. Tra di loro appare Adele Keller, una ragazza che vive nell'ombra, un amante capace di scomparire e riapparire come un fantasma tentatore. Tre donne dai segreti inafferrabili, un uomo che potrebbe essere sia vittima sia assassino. Nessuno di loro mente, nessuno è d'accordo sulla stessa verità. Guillol Musso cattura il lettore con un thriller imprevedibile e seduttivo, un'indagine vorticosa che rivela la sua chiave soltanto all'ultima riga. Qualcun altro di Guillol Musso, edito la nave di Teseo. Siamo allo sport, lavori in corso in casa Unitas Shaka. La società Nero Verde si sta preparando in vista della prossima stagione agonistica e dopo aver confermato il tecnico Angelo Galfano ha già annunciato la conferma di cinque giocatori che lo scorso anno facevano parte dell'undici titolare, ossia i raci con cialdi di mercurio, gnosi e fricano. Nel servizio spazio anche al judo con la karate judo club di Shaka di scena a Palermo per il trofeo regionale del CONI. Vediamo. Prende forma la nuova rosa del Unitas Shaka in vista della prossima stagione agonistica. Dopo la conferma ufficiale del tecnico Angelo Galfano, la dirigenza guidata dal neopresidente Ignazio Rizzuto, ha deciso di confermare cinque pedine che già lo scorso anno hanno fatto parte della prima squadra. Si tratta dell'attaccante esterno Benny Iraci, del centroavanti Gioacchino Niosi, del difensore Dennis Di Mercurio e dei centrocampisti Giacomo Fricano e Piero Congialdi. Le conferme ovviamente sono state condivise con il tecnico Galfano, che chiaramente si attende dei rinforzi importanti e in linea con le proprie idee tattiche e di gioco. Ci è attesa inoltre per la composizione delle squadre che andranno a costituire il girone A del prossimo campionato di eccellenza, quello in cui giocherà anche l'Unitas Shaka. Le squadre dovrebbero essere 16, ma occorre capire come andrà a finire con gli eventuali ripescaggi. La Profavara, infatti, dopo aver perso i playoff per promozione, potrebbe approdare in Serie D al posto del Canicatì, che ha già annunciato di voler rinunciare al torneo. Parmonval e Bagheria avrebbero buone chance invece di passare dalla promozione in eccellenza, mentre resta da chiarire la possibilità che Gela e o Leon Fortese possano essere inserite nel girone centro-occidentale, squadre che attendono pure le dinamiche in corso d'opera nel girone B. Se ne saprà di più nei prossimi giorni con le decisioni ufficiali del Comitato regionale della Lega Nazionale di Lettanti. E passiamo alle arti marziali. Judo, ultimo appuntamento agonistico stagionale per la Karate Judo Club di Shaka del maestro Pippo Piazza. Nel fine settimana a Palermo, presso il Palo Oreto, andrà in scena la fase regionale del torneo Coni per gli esordienti A. In pedana, ognuno nella propria categoria in base al peso, ci saranno Vincenzo Labella e Cristian Labella, una ottima iniziativa sportiva che sarà utile per i due atleti per fare esperienza, per crescere e per migliorare in vista della prossima stagione agonistica. I ragazzi saranno accompagnati e assistiti dall'allenatore Alberto Catanzaro. È proprio tutto, noi ci fermiamo qui, vi ringraziamo per l'attenzione e vi aspettiamo nelle prossime edizioni. Arrivederci. Grazie a tutti.